Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 4 aprile. In ogni domenica Pasqua della settimana la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi. L'ascensione del Signore il 16 maggio. La festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo il 6 giugno. La prima domenica di Appento il 28 novembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli e dei Santi, e nella commemorazione dei fedeli e dei fonti, la chiesa pellegrini sulla terra, proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amén. 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 Amén.